ciao a tutti benvenuti a questo momento di ascolto della parola del signore in questa settimana santa abbiamo iniziato già ieri con la domenica delle palme questa settimana che come dicevo ieri all'omilia durante l'eucaristia è una settimana che la possiamo paragonare con la la creazione dio crea tutto 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 in sette giorni e così il signore in questa settimana santa vuole sottolineare la nuova creazione perché il culmine diciamo la parte più alta della creazione del mondo è appunto la creazione di adam la creazione dell'uomo e così in questa settimana risalta risalta sottolinea la nuova creazione che noi riceviamo in cristo questa filiazione divina ecco perché questa settimana è santa perché attraverso il mistero di cristo siamo tutti chiamati alla santità ecco allora ascoltiamo la parola di oggi in questo lunedì santo presa da dal vangelo di giovanni capitolo 12 versetti dal 1 all 11 parleremo sull'unzione di betania nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen dal vangelo secondo giovanni sei giorni sei giorni prima della pasqua gesù andò a betania dove si trovava lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti e qui fecero per lui una cena marta serviva e lazzaro era uno dei comensali maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso ne cosparse i piedi di gesù poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo allora giuda iscariota uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo disse perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri disse questo non perché l'importasse dei poveri ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa prendeva quello che vi mettevano dentro gesù allora disse lasciala fare perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura i poveri infatti l'avete sempre con voi ma non sempre avete me intanto una grande folla dei giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per gesù ma anche per vedere lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti i capi dei sacerdoti allora di dicessero decisero di uccidere anche lazzaro perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in gesù parola del signore o cristo bene fratelli in questo lunedì della settimana santa dice il vangelo sei giorni prima della pasqua ecco siamo al punto una cosa importantissima in questo vangelo prima di tutto è questa vicinanza di gesù con con questa famiglia pensiamo che anche in questa settimana il signore si avvicina a tante famiglie anche in questa settimana non lo dico come una cosa negativa però le famiglie si avvicinano al signore come natale eccetera la festa della madonna c'è la possibilità di avvicinarsi al signore questa è la prima cosa che volevo dire questa vicinanza di gesù questo amore a gesù dice le fecero una per per cristo fecero una cena noi che cosa le possiamo offrire al signore in questa settimana santa ecco non abbiamo niente da fare da offrirle al signore che cose le possiamo offrire al signore come diceva sempre no come come se così come il signore ha rivelato a santa maria faustina kowalska no che cosa le possiamo offrire o anche a santa margarita maria la coche che cosa possiamo offrire al signore solo i nostri peccati è l'unica cosa che possiamo offrire al signore cose cose vere ecco perché importante in questa settimana venire a confessarsi vai a confessarti riconciliate con il signore riconciliate con te stesso con il prossimo con la famiglia eccetera è un tempo bellissimo per la conversione e allora per avere questa vicinanza con il signore come questa famiglia di maria marta e lazzaro dice il vangelo che marta serviva sappiamo che marta c'ha questa vocazione no al servizio alla diaconia al servizio ai fratelli non è semplicemente guardare marta come una neurotica no è disponibile al servizio sono di quelle persone che 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 sono sempre disponibili a a curare a sono attenti alle ai bisogni degli altri sono veramente il servizio è veramente una una cosa bella infatti cristo dice io sono immesso a voi come colui che serve perché in questo consiste la vita cristiana sono delle opere che aiutano a credere non solo le chiacchiere non solo le parole e poi dice c'era lassaro che era uno dei commensali cioè era l'amico sappiamo abbiamo sentito poco tempo fa la resurrezione di lassaro la domenica prima questa delle palme no l'amore l'amore che il signore sentia sente sente sperimentava per questa famiglia ed è un modo particolare per la sala lo suo amico allora maria che è quella che stava sempre ascoltando al signore non gli chiede nulla anzi gli dà questo profumo che dice di 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso una cosa bellissima questo fatto del profumo è una cosa veramente preziosa ma più preziosa che questo profumo è la nostra preghiera sapete che nella liturgia l'incenso no l'aroma dell'incenso rappresenta la preghiera dell'assemblea liturgica dell'assemblea che che celebra insieme a Cristo il corpo di Cristo il corpo mistico di Cristo è questo fumo che sale verso l'alto che rappresenta il nostro cuore che desidera essere unito al signore stare con il signore e allora perché fa questo gesto maria lo fa per gratitudine dice ne cosparse i piedi di Gesù poi li asciugò con i suoi capelli questo gesto è un gesto di accoglienza un gesto di di riconoscere la regalità di Gesù a riconoscere che lui è il signore un gesto di accoglienza a un pellegrino a un amico a uno che viene da lontano o uno che che viene a riposarsi a casa tua l'unzione ecco perché si parla dell'unzione di betania però qui appare anche un altro personaggio che è giuda l'iscariota il traditore di cui si parlava pure ieri nel vangelo della lettura della passio il traditore che non è solo traditore se no anche un ladro è uno che sta pensando sempre al proprio interesse ai propri interessi non a riconoscere la regalità di Gesù non a riconoscere l'accoglienza di questa famiglia nei confronti di Gesù dei suoi discepoli no è uno che si nasconde dietro questa dietro di questa filantropia che a volte è buona che non dico che non sia buona ma a volte si usa per diciamo così per dire che dio non basta perché se noi diventiamo come dice tante tante volte papa francesco se noi diventiamo una ong e pensiamo solo come chiesa in dar da mangiare ai poveri allora abbiamo perso di vista la cosa essenziale della chiesa che è l'evangelizzazione che è la proclamazione della parola di dio che è la l'annuncio della buona notizia ecco perché il signore dice i poveri ci avrete sempre invece a me no non sempre avete me che cosa vuol dire questo che dobbiamo stare attenti a distinguere tra la povertà materiale che bisogna sì aiutare bisogna essere concreto pure in questo tempo pure fare limosina però bisogna stare attento alla povertà spirituale ai poveri di cuore ai poveri di spirito come dirà diranno le beatitudini bisogna stare attento a quella povertà perché se non perdiamo la bussola e possiamo fare qualsiasi cosa pensando che è quello l'essenziale invece no l'amore al prossimo è un frutto una conseguenza dell'amore a dio e perciò non possiamo dire che amiamo a dio senza amare i fratelli nelle cose concrete ma non abbiamo bisogno di essere cristiani per aiutare i poveri lo dico con con totale libertà cioè non bisogna essere cristiano per aiutare i poveri bisogna avere fede per aiutare i poveri in tutta la sua dimensione annunciando la vera ricchezza che è la vita eterna che è che a una persona tu le apri il cielo le dai la possibilità in questo in questa settimana di aprirsi alla pasqua a questa novità al mistero pasquale che possiamo veramente in questo tempo donarle al signore dargli tutti i nostri peccati tutta la nostra vita metterla nelle sue mani senza paura senza vergogna perché cristo ha vinto la morte e questo è che dobbiamo vedere e questo il profumo il profumo della misericordia di dio che suscita la nostra preghiera di gradimento e di lode che il signore vi benedica nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen bene fratelli vi invito a tutti a tutti voi a lasciare le vostre preghiere qui sotto sotto nella zona dei commenti e a vivere questa settimana santa insieme attraverso la proclamazione della parola di dio che rimane la mia parola incontra la vita eterna ecco il signore lo dice e così lo possiamo vivere tutti questi giorni di preparazione alla pasqua vi invito anche a condividere questo è il link di questo video con più persone così ci aiuti a evangelizzare una benissima una bellissima giornata e una buona settimana della settimana santa ok grazie 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 a tutti